Facciamo il plop? Sì, partiamo! Quindi, se volete passare una bella vacanza a Costa Mui, vi suggerisco di venire da Emma. Un bacio a tutti, ciao! Grazie mille! Grazie mille! Tu hai un posto per fare tatuaggi? Dove sei? Il mio negozio è a Massarosa, Lucca in Toscana. È un negozio dove io faccio tatuaggi, trucco permanente e paramedicale. E niente, venite a trovarmi. Ciao! 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.